Com'era? Pretendi Ork Seedzi? Com'era il sito? Pretendi Ork Seedzi? Sì, Pretendi Ork Seedzi. Ok, Pretendi Ork Seedzi. The Biggest... Aspetta che mi salvo l'ultima gara, non c'è l'ultima gara, l'ultimo pb, voglio salvarmi, prima che mi scordo di salvarmi. Ok, come server andate su The Biggest Dick, come si chiama qua? The Biggest Blackest Dick Iniziamo già dal nome del server, comunque. Mi salvo solo un secondo... Sì, intanto io creo, intanto io creo. Format... Create game... ... 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 Per colpa della speedrun più fallata di turbo fa L'ultimo concerto di Lady Gaga è stato annullato per colpa del delizioso casu marzu Come sa? Flex, sai cos'è il casu marzu? No Aspetta, ma devo misprimire flex Il formaggio con i vermi, eh Che schifo Eh, schifo Eh, io uso la pubblica La condizione di... Flex, è talmente lenta Ah, è talmente potente Non ho nomi No, no, non ho nomi Ma che è il gatto Il gatto di Elia Boh Allora La condizione di Smithers, Libra e Cani È talmente potente che dare a fuoco alla banca Perché è l'embreo La condizione di Mila accendini È talmente potente che è suffocante Zucante L'abbiamo fatta con la carta allora, poi alla fine Sì, sì È lì che deve fermare tre puntini in complotto Cosa c'è oltre l'universo? Eh... Il caso non lo scelte che stai mangiando Geniale Geniale Questa è geniale Questa è in mano Ok, anche questo Questo è perfetto Ma no Eh, questo ci sta Ok, la mia ci sta Questo non ha senso Il prossimo album Ok 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 Ecco qua Vediamo un po' Aspetta che non mi seleziono le carte Minchia Aspetta, voglio giornare Tanto si bug Allora Il prossimo album di Stiamo aspettando Stiamo aspettando Eh, aspetta perché è un problema Ho preso una carta Stiamo aspettando Ok Ok, allora Il prossimo album di Heroes of Air Vabbè, Ashton Sgommare 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 Le mutande Come Ah, sì Sgommare Vabbè Le mutande come un quadro francese Aspetta, ma è vero Il prossimo album di Airston Sarà intitolato Sgommare Le mutande Come un quadro francese Un nuovo single Scriviti al canale Di Re Vergo Il prossimo album di How to Basic Sarà intitolato Mangiare C'è un bel attacchiai Fatti in bagno Se conterà Un nuovo single Cioè Per sbaglio La tariglia Che cosa Sta cosa È stupendo Ma chi è Quello Che sbattere Ok Questo Dopo urlando Ci poteva stare In un altro spazio Per mettere Una carta Con l'esclamazione Ma chi è Quella Recomentata Che sbattere Il Peter Ma chi è Quello Che sbattere Il tifone È uguale Questa è dura Sono uguali Andiamo per questo Dai Il Peter Dattelo Twitch è un sito Dove gli utenti Possono Twitch è un sito Dove gli utenti Possono Inciambare Sul gatto Twitch è un sito Dove gli utenti Possono Spruzzare Sangue Dal pene Una togcia Anche Inciambare sul gatto Comunque Da senso Mi hai permesso Quella cosa Non lo so Non so Le politiche Non ce ne conosco L'ultimo video Che ho visto Aveva come Source Turbo Fa L'ultima NG Che avevo visto Aveva come Source Il vostro Che va Barro di fiducia Dai ma Turbo Fa Domina Yeah Turbo Fazio Nonna Turbo Fa Fa Gli spaghetti Buonissimo Secondo Ma Vole Di questa serie Che è quello Che sto Facendo Questa È Bruttissima Questa È Bruttissima Ragazzi Questo è Veramente Bruttissimo Ho Pesso Proprio La parola è Buonissimo Rosario Buonissimo Ceftroni Cheftroni Qui con Ah qua ci stava Robo di Miracle Blade 3 I vostri Tagliacarte Di fiducia Il vero Acciaio Ossidabile Il meglio Del meglio Del meglio Del peggio Chiudete la testa E girate gli occhi Ancora Stai scrivendo Ok Quindi La carta bianca È di Turbo No È mia Ceftroni Qui con I nuovi coltelli Miracle Blyde 3 Miracle 2 Ceftroni Qui con I nuovi coltelli Miracle Blyde 3 In grado Persino Di tagliare La casa Di Flagstorm Ceftroni Qui con Un coglione In mezzo Perché L'altro Si è tagliato Perché L'altro Si è tagliato Non me lo posso Permettere Ok Questa Questa Non me lo posso Permettere Allora Non me lo posso Infi Questa Ha vinto Lo scutto Ho Finto Le carte Bianche Comunque Io Non ho neanche Una Ancora L'ultima ricetta Di guerrino È a base Di Ma che cacca Che guerrino Lo chef guerrino Ah A base di Quest Non lo so Non ho Non ho carte decenti Non me lo posso Infraesco per il cuo Oh ma La carta di Cristiano Maggio Io non ho ancora Arrivato Vabbè Faccio così Ok Questo Vorrei leggere Questa ricetta Un vero uomo Dovrebbe Lavare i gatti Ah Questa è perfetta Un vero uomo Dovrebbe Ridere Da Ritegno Faccio A prestare Diretto Un vero uomo Dovrebbe Mottrug La carta La metrata Per quale motivo Perchè Perchè Boh Era perfetta Fai schiuma Ma non è sapone Che cos'è Questo Il gatto di Il gatto di Turbo Il che Barbaro di Fiducia Barbaralusso Possiamo Ne sapone Barbaralusso Perchè Il che Barbaro Cartagioli Anche Barbaralusso E Cartagioli Io ce ne ho una Che sto aspettando Il punto giusto Per usare Anche io Forse C'è 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 è sponsorizzata da twitch giappone navigando nel deep web sono riuscito a trovare un sito che vende cos'è la mia è surreale navigando nel deep web sono riuscito a trovare un sito che vende latte perché minecraft per tutto è caccato è caccato ero anch'io un fan di ma l'ho messo ma ho smesso di guardarlo però ho puntato su un pinguino su tutorial come eliminare le vignette su youtube twitch giappone ero anch'io un fan di bread and souls ma ho smesso di guardarlo con la punta su minghie l'ho messo di guardarlo con la puntata su sì il singolo di lema dei mavotus tupo a maiale e cantato in tele trucchese se il gatto mi è svenuto sulla poltrona quello che ci faccio cazzo c'è il mio che miagola cosa può venire a un ciascunastica gozilla che isis che bel humor è triste questo è un ciascunastica questa la mia è bella sei guardiamo nei cartagiolli no coldis ha appena annunciato una nuova collab su l'isis no quella dell'altra volta era come ho perso la virginità l'isis no coldis ha appena annunciato una nuova collab sui gabinetti della villa non ci stanno no coldis ha appena annunciato una nuova collab su due coglioni e mezzo tronco semmai riferimento dipende i gabinetti della villa non ci stanno e puzza come nella 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 latrine ha annunciato un nuovo digimon ha annunciato un nuovo digimon astro astro bambamon astro bambamon silenco sinergomon con firme astro bambamon è stupendo e perchè mi ha finito lo sterzano mon aspetta 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 questa questa ragazzi questa no no astro bambamon è l'evoluzione di sterzano mon aspetta 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 quest'anno quest'anno di più questa perchè è un kinder pingui scaduto ma un kinder pingui scaduto come slitta aspetta che diamo è successo qua dentro i bispedi crumato sui canali eh quattro c'era in camera nella mura questo questo noi siamo mercenari noi siamo mercenari abbiamo 48 ore di vino vedremo di cose quotidiane per te stupi aspetta che diamo è successo qua dentro e coprire un tomba che deve essere scadente e dove non ha un senso sotto a due ma si è l'ora del clistere è l'ora del clistere signorina si mette il culo di premiabile che qui tra poco giocherà merda è l'ora del clistere ultima notizia 5 volte da fecchino boh mi porto la carta sas ok sas 5 morte da freddi gravi sas sas nel suo prossimo video del mago tux non fa più video questo mazzo è talmente vecchio che tux faceva ancora video incredibile come si chiama tux? come si chiama tux? il mago tux? il mago tux? il mago tux con la cacca con la cacca nel suo prossimo video del mago tux costruirà un complicato impianto idraulico che scaricherà direttamente il piccio e la mantina no no questa questa è geniale questo questo ce la mandiamo subito a tux cos'è a testo? lo special ti hai chiamato tux in sotto in sottofondo in sottofondo siamo della ditta siamo della ditta abbiamo chiamato ma adesso vedi? siamo della ditta abbiamo chiamato per la soluzione del vostro ma dobbiamo vedere che abbiamo finito allora siamo della ditta la soluzione del vostro dai che abbiamo finito cazzo non mi è mai manca una boh devo affermi un seguito un nuovo gioco con palle ahhh ahhh dai vota dai vota non lo so vota abbiamo chiamato da parla ok sas sas un vibratore fatto di merda ma il video cos'è sto video che ho mandato? non lo so non posso guardarlo ora il prossimo verso è cosa ma? ma c'è una corte nave non si vede da 34 questo perché so che ha no e è il viaggio 25 ci vediamo qua che poi noi scherziamo come lì che cosa è successo perché? è la testa salve sono Billy Mays ed oggi vi presento perché? com'è successo? aspetta aspetta perché in pratica aveva buttato la spazzatura e andato la risca nella spazzatura e si è mangiato salve sono Billy Mays ed oggi vi presento come schiantarsi contro un tronchi a bordo della propria kinder fiesta salve sono Billy Mays ed oggi vi presento il raga di alcuno questo è quel profumismo torno subito ok flex 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 cos'è quel profumino? il dolce sapere della vendetta vabbè i brownies freschi della nonna da un gioco di da un gioco di da un speedrun che tu può fare ok questo questo team speck ho detto team speck team speck ok ok leggi 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 il nuovo gioco da speedrun 얼굴 che il che te è team speck cechissima dieci ci siamo stati ma praticamente i già noi prima te le za speeda team speck team speck team speck knock knock gie il Nemesis hanno una carta dove non saperebbe qualche giorno gie knock knock gie ruspa Una carta talmente inutile Si usa per questo Frextorm qui con Questo Frextorm qui con Veni in snapback Muncheva una mucca vaschina pensando di Armi e del latte ma in realtà sentiva Una sostanza molto digna Anche i sapori Anche i sapori Occhio a occhio 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 a occhio Troppo varie Ma da poi non c'è neanche per sicure Ci sono tre carte bianche Vabbè Forse Occhio a occhio C'è sicuramente Dai Peter Oh questo è perfetto Combo perfetto Occhio a occhio Occhio a occhio Quella che mi stiamo se ricosta è il piatto Perfetti Genova Ok questo Occhio a occhio Occhio a occhio penneflosci e tua madre leggenda Occhio a occhio a occhio penneflosci e tua madre leggenda E' passi a occhio penneflosci e tu E' passi a occhio penneflosci Quindi ando Non c'è Cisti E' passi a occhio penneflosci 9 8 come dice un antico proverbio cinese un antico proverbio cinese aspetta 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 ho la carta perfetta eh tipo riccardo il grande tipo qua senti che riccardo il grande è una cosa che vuoi intendere 1 come dice un antico proverbio cinese aspetta lo cerco subito tuttora ma che ma non adesso esserle all'altro ti pu ma mai heure comunque eh a dice Se intervengessi i nostri giorni, i giorni nostri sicuramente sarebbero molto... ...darebbe la possibilità. Spalua. Giapponesco. Arriva. Sì, la cosa era era un pisello magico. Sì, salendo molto suoniamo. A loro è in luci HP. Eh? Cosa è? Il pisello magico del professore. Occhio Marocchio! Eh, fino a occhio! Ok. Occhio, ma l'occhio, l'unico del nome che ti anima, ti è mago tu, xd xd Ma no, è una bella mia Rimando un po' proprio, rimando al mio quale è stato Mh Qualcosa, neanche i macchi Dov' vi ammetti? Tattate grazie sui video quanto... pesa Facciamo qui la 25 Allora, una volta una ventricola, ma poi mi sono beccato una mozzarella andata male che era su di te, dei profili al ginocchio Non mi sono beccato Ma poi mi sono beccato un merdoid Perchè diventa blu? Ah perchè è blu? Perchè è la degradazione di un batterio lattico, che quasi praticamente degrada... Nell'ultima azione di Sanremo il vincitore è stato... Questo Uno dei gratapatosi nella sostanza che dà guaddu Questo Gaibrush Tripwood Gaibrush Tripwood No Una carta bianca comodamente inusile E' un troiaio Non desnercato mettendola Qual la perdite? Vediamo un po' mettendola che le diamo come si sceglieva ho una carta che ho una carta che sto aspettando di usarla al mondo giusto ok, io l'ho ben arrivato, quindi no, credo fosse tipo wordcraft.it no, per niente era la mia roba, devi accettare ah, è interessante ma conto, che c'è prima? 69 non mi interessa essere capito, non mi interessa vigo, vigo però non mi interessa questo mi interessa, se veramente non mi interessa l'interazione di protiglio settimana che lo vediamo con non mi interessa imbiancando un intero appartamento mi do fuoco anche io ne ho una da in sua partita questa è ventina e io mi ammazzo il ferrato è sciunice non mi interessa non mi interessa state buoni state buoni buoni state buoni 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 avendo scaldato il coro l'ho mai usato che può fare con? mi riconosione a giudicare, quindi basta attenzione ok uno spider, basta un pericolo il culo di gastone l'ultima volta che ho inviato show nice cos'è show nice poi? uno che mangia tutto ok allora due ore qua di romanzo con le carte bianche con tutte le carte bianche quindi perde perchè so di chi è la carta bianca anche la mia è la carta bianca per ora è bianca per ora è bianca e basta la tua no anche la mia è la carta bianca quella più lunga perde perchè so di chi è come si chiama? eh era giusto il gioco no no ma qua c'è giusto il gioco non è vero? a me c'è chiuso a me è tornato nel menù eh mondo ragazzi left the game sei uscito da l'arte vabbè basta così perchè sei uscito? no ma sono uscito comunque la mia carta era un mangiato di me con tutti e che cosa? ho fatto una grandissima ho scritto una bella cosa e che hai scritto? eh non lo ricordo ah bello talmente bella che sei già scordato esatto che palle oh a metà gioco esci così a random esatto a caso ma perchè? refresh esce eh il flash che non mi fa entrare la password eh su filter game by è come si chiama quella stanza dice che sei uscito ah mi sono scufato però ma non sono uscito ma abbiamo fatto solo 40 minuti di live finora cioè fai qualcosa esatto prova se hai un panino tipo cerca di migliorare il tuo pb in crescita di cast in youtube ora tu hai intanto anche un competitore ho capito ma vabbè quello lo carico lo stesso su speedruns.com vabbè farò la pagina e poi lo miglioro ovviamente intanto quando chiamare tunx 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 o sennò da o sennò cospetta ho trovato un video di gabri qualcosa ma che si chiama il canale di tunx ma chi è tunx ma che si chiama ma che si chiama tunx no no tux ah tux anche se però tunx su stile tunx ma questo video ti chiedo ma che cos'è ma che cos'è che cos'è che cos'è domani sto facendo domani con tux boh eeeh che dobbiamo fare questo non lo ricordo più non possiamo stare quasi streammando il vuoto cosa dobbiamo fare possiamo anche interrompere lo stream perchè 48 minuti live perchè non va più il canale ah ma aspetta c'è quello nuovo è vero come si chiamava quel canale di tux nuovo edu 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 è possibile trovandolo edu edu no edu channel vabbè aspetta trovando io trovando io trovando io trovo tutto boh io noi stacchiamo live a domani notte a tutti ciao a tutti non ho un eco edu domandato